Tragedia nel mondo calcistico della provincia ha trovato morto Marco Lucarini L'ultimo saluto ad Augusto Baronciani in tantissimi oggi alla Chiesa del Porto Fondi alle associazioni il centrodestra pesarese chiede chiarezza Strada tra i due porti, stop alle corse, non è una pista Miralfiore, legambiente, serve un progetto per la sicurezza del parco Ben ritrovati al nostro telegiornale, oggi è martedì 23 luglio, apriamo questa edizione con una tragedia purtroppo che riguarda un'importante figura del calcio della nostra provincia, ovvero Marco Lucarini storico calciatore di categoria dell'Alta Valle del Foglia che è deceduto all'età di soli 41 anni A ritrovare il corpo di Marco sono stati i suoi genitori che abitavano in casa con lui Le cause del decesso sembrerebbero essere attribuibili ad un arresto cardiaco avvenuto tra la notte di sabato e la domenica mattina A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 allertati dai genitori Al momento non è stata ancora fissata la data del funerale poiché è stata disposta all'autopsia Sono tanti nel mentre i ricordi che riaffiorano di Lucarini giocatore soprattutto quello storico gol segnato con la maglia dell'Alto Foglia nel derby con Pian di Meletto Saluti sportivi che arrivano anche dalle altre società con cui ha giocato Lunano, Sant'Angiolese, Borgo Pace e San Sisto Spostiamoci ora dall'entroterra alla costa pesarese precisamente alla chiesa di Santa Maria del Porto dove oggi alle ore 17 si sono svolti i funerali di Augusto Baronciani storico imprenditore del territorio al quale la città ha reso l'ultimo saluto Tante le autorità e le persone presenti per l'occasione per rendere omaggio ad un uomo che ha scritto pagine importanti dell'industria cittadina e del mondo delle moto Non sarà ricordato soltanto come fondatore del gruppo Isopac ma anche e forse soprattutto per essere stato colui che ha portato la Benelli a Pesaro Così grande la sua passione per le moto che lo ha portato anche ai vertici di quello sport raggiungendo il titolo di campione italiano di motociclismo nel 1957 e nel 1958 regalando a Pesaro eventi indimenticabili come il Gran Premio Pesaro Mobili o la realizzazione del registro storico Benelli un uomo dunque un imprenditore ma anche un motociclista che ora tutti salutano con affetto, tristezza e magari perché no anche con il rombo di qualche motore Continua la polemica inerenti ai fondi stanziati dal comune di Pesaro per le associazioni Opera Maestra e Stella Polare a fronte del nuovo finanziamento emerso di circa 12.000 euro per il Festival del Mare una notizia che fa tornare alla carica sul tema l'opposizione pesarese pronta a chiedere una commissione d'inchiesta al prossimo Consiglio Comunale Allora vediamo il servizio Le associazioni Opera Maestra e Stella Polare continuano ad essere al centro delle polemiche che riguardano i finanziamenti ricevuti dal comune che con l'ultima scoperta inerente al contributo del Festival del Mare arrivano a sfiorare la quota di 350.000 euro in soli due anni numeri che hanno mobilitato i consiglieri d'opposizione pesarese che nel prossimo Consiglio Comunale chiederanno una commissione speciale d'inchiesta al riguardo È incredibile che somme così importanti, somme così ingenti siano assegnate con un affidamento diretto senza nessun criterio di rotazione perché di fatto sembra che siano sempre assegnate le stesse associazioni Opera Maestra e Stella Polare, quell'altra associazione perché lo vediamo anche dalle segnazioni sono dei semplici coppi in colla ed è incredibile che queste somme vengano assegnate e poi quando chiediamo al sindaco o all'ex sindaco Ricci o al dirigente delle manutenzioni Giraldi se conoscono questa associazione addirittura molti di loro negrano di conoscerla di essere a conoscenza di questa associazione eppure la giunta al comune la giunta prima al comune adesso gli hanno assegnato, ripeto insomma veramente ingenti ci vuole trasparenza, ci vuole chiarezza perché questi sono soldi pubblici quindi noi andremo veramente a fondo di questa questione perché come vediamo un'altra cosa poi incredibile che queste somme vengono assegnate a un'associazione no profit socio-culturale che non ha dipendenti che ha soltanto dei volontari che non hanno nessuna posizione in IMS quindi non possono ricevere chiaramente nessuno stipendio eppure vengono affidate a questa associazione dei lavori di manutenzione è incredibile in più veramente anche tante volte è difficile riuscire a trovare questa assegnazione perché se noi andiamo a fare una ricerca sul sito del comune è difficile individuarle perché sono un unico calderone infatti noi chiederemo che questi affidamenti diretti siano messi, inseriti online ma in un capitolo a parte noi ci siamo trovati ad avere il decalogo che abbiamo presentato l'altro giorno in conferenza stampa completamente disatteso nessuno ha dato risposta alle nostre dieci domande delle domande semplici che chiedevano chiarezza ora siccome siamo consapevoli di quali sono gli strumenti in capo ad un consigliere comunale sappiamo perfettamente che a norma dell'articolo 37 dello statuto comunale c'è la possibilità di chiedere delle commissioni speciali di inchiesta su temi specifici una commissione di inchiesta ad hoc su questo tema non possa che far bene alla cittadinanza con un ordine del giorno urgente presenteremo la richiesta al consiglio comunale dovrebbe essere la prossima settimana in cui chiederemo l'istituzione di una commissione speciale ci auguriamo poiché questa richiesta dovrà essere votata dal consiglio comunale che il consiglio in maniera unanime decida di votarla e di approvarla anche perché il vero tema oltre a queste due associazioni Opera Maestra e Stella Polare che hanno sede nello stesso luogo con lo stesso legale rappresentante la vera domanda è quante altre associazioni in questi anni hanno ricevuto attraverso degli affidamenti diretti da parte dell'amministrazione comunale e degli incarichi per riuscire a portare avanti degli affidamenti diretti Ed ora andiamo a parlare della movida pesarese ma soprattutto di una rissa che è avvenuta questo fine settimana in un bar della zona del lungomare intorno alle 2 di notte questa volta niente pugni niente coltelli ma spray al peperoncino questa infatti l'arma usata da uno dei due soggetti coinvolti entrambi di origine tunisina durante la rissa a far scaturire il tutto sembrerebbe essere stato un semplice diverbio tra i due ragazzi che poi è sfociato in una lite nessuno dei due sembra aver riportato feriti a differenza della security che nel cercare di dividerli ha ricevuto uno schiaffo da parte dei due ragazzi giunta sul posto la polizia ha identificato i due soggetti coinvolti ritrovando la vittima dello spray sotto ad una doccia della spiaggia nel tentativo di alleviare il bruciore inoltre dai controlli effettuati sarebbe emerso che uno dei due ragazzi risultava già noto alle forze dell'ordine le forze dell'ordine poi dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti li hanno condotti in questura per ulteriori accertamenti dalla movida alle corse con auto e moto nella strada tra i due ponti la sicurezza infatti torna ad essere un tema centrale nella nuova darsena pesarese ed il comune assieme alla capitaneria e alla polizia locale rispondono subito presente pronti infatti una serie di interventi volti a garantire la sicurezza ai cittadini che presto si allargheranno anche alla panoramica del San Bartolo vediamo la nuova darsena di pesaro ovvero la strada tra i due porti non è una pista per gare di auto o di moto e soprattutto bisogna garantire la sicurezza ed il rispetto dei limiti di velocità su questi principi si basa il lavoro di squadra che sarà portato avanti dalle autorità e dall'amministrazione comunale che presto interesserà anche la strada panoramica del San Bartolo grazie anche alla collaborazione con la capitaneria di Porto e con la polizia locale abbiamo iniziato e attivato un maggiore controllo proprio per queste segnalazioni che c'erano arrivate e ovviamente con l'obiettivo di mettere a sicurezza sia dei cittadini questa strada perché appunto ci sono state delle situazioni in cui le macchine e i motorini insomma percorrevano ad alta velocità quindi grazie alla collaborazione con la capitaneria di Porto e la polizia municipale abbiamo avviato una serie di controlli una programmazione di controlli quindi principalmente tra strada tra due porti e il parcheggio della nuova darsena e questo per garantire appunto la sicurezza e per anche implementare e rafforzare quella che è un po' la collaborazione già in essere tra il comune e la capitaneria di Porto e nei prossimi giorni e a breve incontreremo anche tutti i vari soggetti per appunto mettere in sicurezza anche la strada panoramica perché anche lì ci sono state delle segnalazioni e anche lì l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza da un punto di vista stradale appunto quella zona e sempre nell'ottica della collaborazione tra tutti i soggetti interessati e anche del rafforzamento appunto della sicurezza dei cittadini Rimaniamo e parliamo del tema sicurezza ritornando su un argomento che purtroppo fa spesso discutere i pesaresi stiamo parlando infatti del parco Miralfiore del problema di droga e di spaccio che vive l'area verde della città Legambiente infatti chiede che venga realizzato un progetto che possa garantire la sicurezza dei cittadini all'interno del parco riportandolo allo splendore che merita Il parco Miralfiore deve essere visto come un luogo di divertimento uno spazio verde un centro culturale questo è il messaggio che arriva da Lega Ambiente Pesaro che denuncia lo stato della polmone verde pesarese che sempre più nell'ultimo periodo è finito al centro della cronaca locale e propone che venga realizzato un progetto per la sicurezza di quest'ultimo affinché venga restituito ai cittadini Noi sappiamo qual è la situazione del Miralfiore non è un caso che da un anno lavoriamo ad un progetto proprio alternativo all'attuale gestione per arrivare ad avere un parco intanto sicuro e per sicuro intendo appunto che bisogna debellare quel disastro che c'è attualmente che è lo spaccio della droga e qui dobbiamo utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione dalle forze di polizia ma anche dalla partecipazione della gente ma anche da persone che possono stare nel parco che lo custodiscono non è possibile pensare ad un parco in cui non c'è una o due persone fisse che abbiano la situazione in mano perché non è più gestibile in questo modo nel nostro progetto noi diciamo queste cose suggeriamo anche altre cose come per esempio metterlo in sicurezza dal punto di vista anche degli incendi perché oggi quel parco è a rischio a forte rischio e lì vicino ci sono le case quindi io credo che bisogna debellare anche questa diciamo congiuntura speriamo non accada però se accade quindi abbiamo tante cose da fare sul parco abbiamo presentato il nostro progetto all'assessore martedì c'è la consulta della sostenibilità illustreremo questo nostro progetto ci confronteremo quindi con l'amministrazione comunale ma anche con le altre forze l'importante è che l'amministrazione comunale si metta nell'ottica di affrontare il problema non dico di risolverlo in pochi mesi perché non è possibile però deve fare un progetto anche a lunga scadenza che preveda una serie di cose che mettono quel parco appunto in sicurezza e soprattutto che possa essere goduto dai cittadini e dai non cittadini anche da coloro che vengono a visitare la nostra città e può diventare anche un momento culturale importantissimo per il territorio quindi per lo studio del paesaggio per esempio tutte queste cose vanno coordinate pensate organizzate e da Pesaro ci spostiamo a Fano dove l'operazione Nettuno è stata completata da ieri sera infatti il peschiereccio affondato che da ormai quasi un anno si trovava nella darsena fanese è stato recuperato e rimosso un intervento importante per i cittadini e per le imbarcazioni del posto perché il relitto rappresentava un pericolo sia in termini di sicurezza per la navigazione sia per le attività portuali riapre dunque in meno di 24 ore anche il tratto del viale adriatico che era stato chiuso per l'operazione di recupero con grande soddisfazione dei residenti del posto e anche del sindaco di Fano Serfilippi che parla di promessa mantenuta definendo questa operazione una vittoria per tutta la città di fatto il peschiereccio si trovava in quello stato dalla notte di domenica 20 agosto del 2023 dal vecchio peschiereccio invece adesso andiamo a parlare delle nuove tecnologie di Geomarche 2032 è un'applicazione presentata proprio dalla regione Marche che permetterà di visionare in tempo reale tutte le infrastrutture regionali il tutto con un semplice click a portata di smartphone la regione Marche presenta Geomarche 2032 un'applicazione dedicata alle infrastrutture che interessano il territorio regionale e che permetterà a cittadini e addetti ai lavori di poter avere tutti i cantieri delle Marche a portata di smartphone si tratta dunque di uno strumento tecnologico che mira tanto all'aspetto informativo quanto a quello lavorativo innanzitutto trasparenza chiarezza e capacità di informazione e coinvolgimento perché grandi infrastrutture presuppongono anche la compartecipazione dell'opinione pubblica e la consapevolezza di quello che si sta realizzando nella nostra regione la nostra è una regione che non è abituata a pensare alle infrastrutture e oggi che ci sono tante opportunità e ci saranno fra poco veramente tanti cantieri è giusto che la comunità sia consapevole e partecipi attivamente insieme agli enti locali a questo processo di rinnovamento e anche di potenziamento del nostro territorio è uno strumento di democrazia digitale che porta sul telefonino di ogni cittadino marchigiano il piano strategico dell'infrastruttura è Marche 2032 quindi è uno strumento molto potente da un punto di vista comunicativo perché tutti i cittadini marchigiani sanno e sapranno quello che è accaduto e sta accadendo nelle Marche oltre 1270 cantieri che possono essere monitorati sia quelli realizzati direttamente dalla regione che quelli realizzati dagli enti locali province e comuni con partecipazione e contributo diretto della regione nonché altri interventi finanziati delle grandi società di Stato pensiamo a Ferrovia o ad Anas e poi uno strumento particolarmente utile per tutti i comuni dal nord al sud della regione per le professioni penso all'ordine degli architetti ai nostri geometri all'ordine degli ingegneri perché trovano una cartografia dettagliata di tutta la nostra regione sulla quale potranno lavorare ovviamente sul web si trovano anche altri strumenti ma strumenti sui quali non si può lavorare su questi si potrà lavorare e ad esempio nel prossimo futuro porsi in un qualsiasi punto del nostro territorio marchigiano ad esempio in cima ad un campanile come punto di osservazione vedere quello che accade intorno proprio entrando in Geo Marche 20 e 32 questo sarà particolarmente utile perché ogni trasformazione urbanistica del territorio potrà essere valutata in anticipo anche da un punto di osservazione in qualsiasi parte del territorio marchigiano nel nostro telefonino con un semplice colpo dato con le nostre dita potremo vedere come una città un quartiere un territorio una campagna si è trasformata nel tempo e questo strumento di democrazia digitale è così avanti a così tante potenzialità che alcune altre regioni sono interessate ad acquisire la nostra esperienza proprio sul dato comunicativo ed ora andiamo al consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi mostriamo questa sera una foto che ci arriva da una nostra telespettatrice che come potete vedere ha fotografato una volpe nel quartiere di Muraglia vicino alla sua abitazione si tratta questo del secondo caso dopo quello della segnalazione di un lupo che vi abbiamo mostrato proprio la settimana scorsa sempre nello stesso quartiere e allora indagheremo su questa situazione e intanto noi vi ricordiamo il nostro numero di whatsapp per mandarci le vostre segnalazioni foto e video 370-366-7210 ed ora andiamo a parlare di un evento che si terrà questo fine settimana un evento dedicato agli appassionati di motori si chiama Summer Tour BMW domenica 28 luglio il ritrovo sarà alle ore 8.30 al parcheggio della strada tra i due porti per vivere una giornata all'insegna dei motori dedicati alle BMW M concludiamo il nostro telegiornale spostandoci a Montelabate dove questa mattina si è tenuta la presentazione ufficiale della storica Sagra delle Pesche che quest'anno giunge alla sua settantottesima edizione un evento che si svolgerà dal 26-28 luglio ricco di momenti dedicati ad arte e musica ovviamente anche a questo simbolico e frutto vediamo Montelabate presenta la settantottesima edizione della Sagra delle Pesche un evento dedicato ad un frutto simbolo del comune che nell'arco della storia è stato dono e delizia di duchi e noti personaggi dei secoli passati una ricorrenza dunque all'insegna della tradizione ma anche del divertimento la settantottesima edizione la Sagra nasce nell'immediato dopoguerra nel 1946 e nasce per volontà di un gruppo di peschicoltori di contadini locali di coltivatori locali che pensarono così di creare questo evento questo momento in cui si potesse dare risalto a questo frutto che era il frutto appunto che dava maggiore soddisfazione alle loro fatiche alle fatiche di tutto l'anno la Sagra nasce nel 1946 ma Montelabate e le sue pesche è celebre dal rinascimento almeno per questo frutto è un frutto antico sappiamo che nel 500 i conti di Montelabate mandavano le pesche in omaggio le loro pesche in omaggio ai duchi di Urbino ad altre personalità dell'epoca e quindi una tradizione che viene da lontano e che è stata valorizzata appunto nel secondo novecento attraverso questa Sagra una Sagra quella di quest'anno preparata un po' in corsa la giunta si è insediata da meno di un mese però crediamo che sia doveroso insomma impegnarsi per far vivere e per far crescere questa manifestazione importante per il nostro territorio sì l'ho vissuta anche da presidente dell'associazione Monsabatis e quindi da presidente da membro di una realtà che da sempre si occupa di valorizzazione territoriale oggi avere la responsabilità insieme agli altri non solo all'amministrazione comunale ma insieme alle altre realtà locali la responsabilità di allestire di portare a casa questo evento è una responsabilità che sento più forte ancora tre giorni di incontri di musica di tradizioni si incomincerà il 26 di luglio venerdì 26 luglio con una cena paesana una cena curata dalle nostre associazioni Proloco e Hauser che sono i partner principali di questa manifestazione partner che affiancano l'amministrazione comunale e aiutano appunto nell'organizzazione generale della Sagra e poi due giornate all'insegna appunto delle nostre tradizioni più care quindi la banda l'inaugurazione con le autorità l'orchestra il ballo e poi anche la ristorazione la gastronomia e allora non perdetevi questi bellissimi eventi che ci sono anche questo fine settimana nella nostra provincia di Pesar Urbino intanto però non perdetevi anche il racconto di quello che è stato Monbaroccio capitale della cultura allora stasera ve lo raccontiamo alle ore 21.20 i sapori del borgo nell'itinerario della bellezza una cena itinerante appunto a Monbaroccio e poi chiaramente vi aspetto domani mattina alle 7.20 in diretta per la nostra lettura dei quotidiani in locali saremo in diretta sul canale 80 in diretta anche sull'applicazione quindi il consiglio è sempre quello di scaricarla e anche sulla nostra pagina facebook grazie e buona serata